A Pisa torna Internet Festival, 4 giorni e 200 eventi dedicati alla rete. Sarà presentato per la prima volta in Italia il White Paper sulle Startup, documento in 7 punti da presentare al governo italiano. Dalle regole per costruire nuovi spazi virtuali a come i Big Data stanno cambiando perfino il mondo del calcio. Dal futuro della musica digitale alle istruzioni su come investire sulle Startup, dal viaggio nel mondo della rete in Medio Oriente alle possibilità professionali che Internet offre alle generazioni delle app. E poi ancora incontri sul futuro del cibo, tutto questo è Internet Festival 2015 dal titolo Geografie e esplorazioni della rete in programma a Pisa dall'8 all'11 ottobre. 4 giorni di dibattiti, workshop e laboratori per raccontare la rivoluzione digitale e la nuova idea di spazio che grazie alla rete prende forma. Il Festival ha un programma di oltre 200 eventi a ingresso libero in 20 location e con 200 ospiti che si svilupperà per tutta la città di Pisa in un viaggio nel mondo della rete quest'anno dedicato al concetto di spazio digitale, una mappa senza confini, in continua mutazione, senza regole, che procede a folle velocità. Grazie per la visione!